Ho fatto la doccia e mi sono lavato dappertutto. Ma proprio dappertutto, davanti, di dietro, fra le dita dei piedi, anche nell'ombelico. Tutte cose che non ho mai fatto volentieri. Ho lavato i capelli con uno shampoo per adulti e ho usato un balsamo che li fa risplendere. Non ho trovato lo spazzolino da denti, ma ne comprerò uno più tardi. A parte questo mi sento in forma.